Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo Lightboard. Oggi voglio parlarvi di una cosa che è abbastanza antipatica ovvero sia quando il nostro laser si blocca e andiamo a capire il perché a volte si blocca. Ora quando il laser si blocca durante una lavorazione solitamente la prima cosa che pensiamo è andiamo a scrivere sul canale oppure sul gruppo facebook di noi che usiamo Lightboard cosa è successo al mio laser. Allora possono essere successe tante cose. La prima che viene in mente è solitamente quella del cavo usb ovvero sia la trasmissione dei dati dal computer al laser che si è interrotta per qualsiasi motivo. Questa è una possibilità abbastanza normale e che purtroppo succede parecchie volte. Poi ci sono altre problematiche un pochino più complesse che ci bloccano il lavoro ma ce n'è una in particolare di cui non vi ho mai parlato ma che può succedere e può succedere specialmente nelle incisioni e specialmente nelle immagini e così via. Nel taglio è più difficile che accada. Andiamola a vedere perché in pochi minuti vi spiego come riuscire a capire se questo è il difetto che vi fa bloccare il lavoro in un determinato punto del vostro progetto oppure se bisogna ricercare altre cause. Questa la ricondurrei diciamo a un terzo quarto livello di ricerca quindi prima il il collegamento laser poi se c'è qualche problema altra problematica per quanto riguarda il progetto se c'è qualcosa che non va ma ce n'è una che si nasconde subdolamente. Andiamola a vedere. Allora come vedete ho caricato sul piano di lavoro un'immagine un piccolo gnomo tanto tra poco si avvicinerà al Natale quindi ne vedremo di gnomi di tutte le forme di tutte le misure e di tutte le dimensioni. Qui l'ho fatto volutamente un pochino grande e come a volte capita e facciamo magari in tanti o meno credo quando devo andare a lavorare un soggetto un progetto io vado a spostarlo magari nella parte diciamo più vicina possibile al margine dove avrò il mio materiale quindi il multistrato eccetera eccetera per sprecare meno materiale possibile penso che sia una cosa che la maggior parte di noi fa. Allora cosa succede perché mi dicevo che c'è questa possibilità subdola che si vede male riguardo a un blocco improvviso del laser mentre sta lavorando quindi è partito tranquillamente eccetera eccetera sta incidendo per bene tutto quello che vogliamo arriva a un certo punto si ferma si blocca a volte dall'hard limit si è andato a toccare l'hard limit a volte da altre tipologie d'errore ma si blocca e si ferma. Cosa può essere successo? Ve lo spiego in poche parole. Per trovare la causa di quello che è successo bisogna andare a vedere il livello con cui andiamo a fare questa incisione quindi apro il livello e vediamo che fra le caratteristiche come tutti noi o quasi tutti noi magari che all'inizio non ancora sa che conviene sempre fare una sovrascansione quando si va a fare un'incisione. Questa sovrascansione serve appunto perché il laser ha dei movimenti e va un po' oltre la figura vera e propria e va oltre di quanto solitamente il livello di default mette un 2,5% che è un 2,5% riferito alla velocità. In questo caso con una velocità di 6.000 mm al minuto la sovrascansione è di 2,5 mm. Quindi cosa fa? Si sposta un pochettino di più a destra e più a sinistra rispetto ai limiti della grafica da incidere. Se io vado a diminuire la velocità vedremo che diminuisce anche la larghezza di questa sovrascansione con 2.000. Vi ricordate prima eravamo 2,5% ora siamo a 0,83%. Se vado invece a 10.000 me l'aumenta, questo è 1000, faccio 10.000, me l'aumenta e mi va a 4,17%. Supponiamo che voglio andare a 10.000 perché nel mio caso tra l'altro nel mio laser regge anche 10.000 di velocità e con 80 di... perché voglio fare in questo modo. Penso che dai test che ho fatto sia il migliore. Allora cosa succede? Allora io faccio partire tranquillamente la mia lavorazione e la vediamo qua nel... diciamo con l'anteprima. Quindi praticamente possiamo anche fare inverti per vederlo meglio. Vedete che non succede niente ovvero sia non mi dice che c'è qualche problema eccetera eccetera perché se fosse fuori non mi partirebbe perché mi direbbe vediamolo vi faccio vedere se io porto la grafica qua ok se io faccio l'anteprima vedete mi dice una o più forme stanno attraversando il bordo quindi mi dice guarda che stai facendo qualcosa di sbagliato quindi c'è qualcosa fuori e io non te lo posso lavorare. Ok vuoi continuare e io direi di no e poi faccio ctrl z lo rimetto dove prima. In questo caso non mi ha dato errori quindi mi aspetto che il laser mi faccia tutta la sua lavorazione. Infatti se faccio anche il riproduci ecco lo sveltisco un attimino metto in pausa ve lo faccio vedere anche qua una volta che è finito tutto vedete che la parte più vicino al bordo in alto ci sono e di fianco vedete in alto ci sono perché qui la riga verde è quella che praticamente mi fa vedere i limiti del piano di lavoro e anche a sinistra ci sono però se io vado a valorizzare anche aspetta che lo riduco un attimino vado anche a vedere quali sono i movimenti laterali ecco vedete questi sono i valori cioè i valori diciamo la dimensione dell'overscanning quindi praticamente cosa succede vedete qua adesso lo ingrandisco se riesco ingrandisco ancora di più e vedete che mi va l'overscanning la mano dell'ognomo era dentro al piano di lavoro ma con l'overscanning il laser va là e in questo caso molto probabilmente sarebbe da suggerire anche a Lightbar di tener conto dell'overscanning per segnalarmi un fuori piano di lavoro mi fa questo mi fa questo problema quindi una banalità che per risparmiare un pochettino di materiale lo andiamo a mettere il più vicino possibile ma dobbiamo tenere sempre conto dell'overscanning specialmente se andiamo ad alte velocità quindi a questo punto io per non avere questo problema e quindi un'interruzione che mi si interrompe logicamente il mio laser scende dall'alto verso il basso appena arriva qua mi si blocca e molto realmente non capisco perché si è bloccato per l'overscanning ok non la voglio fare più lunga perché effettivamente non serve farla più lunga attenzione vi si blocca il laser può essere l'usb può essere la perdita di qualcosa eccetera qualsiasi anomalia ma potrebbe anche essere causata dall'overscanning se la nostra figura da incidere perché invece nel taglio non c'è overscanning potrebbe essere andare a portare fuori il laser quindi va o a sbattere se non ci sono gli end stop o al limite va a toccare un end stop e mi dà l'errore appunto che ha toccato un hard limit ok io con questo però vi ringrazio e vi saluto mi auguro che vi sia piaciuto questo video e alla prossima like iscrivetevi siete diciamo un 50 per cento che non sono iscritti qualche guardate i miei video gratis e manco vi scrivete che è anche gratis quindi altrimenti altrimenti niente perché non vi posso venire a prendere a tirare le orecchie uno a uno iscrivetevi ciao alla prossima